Non so perché devo fare il buffone qua sopra, ma il direttore artistico ha deciso ciò. Comunque il sistema, che è stato il mio primo lavoro con la RAI, sempre con Walter Lupo, perché ormai siamo una coppia di ferro, parla di Roma criminale praticamente, quello che è venuto fuori, mafia capitale, tutto lo scandalo. Solo che noi abbiamo cominciato a scriverlo, anzi abbiamo finito di scriverlo, il prodotto, quando ancora non si parlava di questo. Noi avevamo letto una serie di articoli che facevano venire un po' fuori tutta questa idea della nuova criminalità romana, di questo mondo di mezzo, della nuova destra che era entrata, anzi la vecchia destra, che si era mescolata un po' con la mafia e compagnia. e abbiamo pensato che poteva essere una buona trama e abbiamo raccontato la storia di un finanziere che scopre tutto questo marcio. La cosa divertente è che quando siamo andati sul set è scappiato il casino e c'è stato gli arresti di massa che sappiamo di Roma. Se ne ricorderà qualcuno? Forse la realtà sarà anche peggio dalla fantasia, però noi siamo partiti prima. Sono molto curioso di vedere come verrà ricepito quando viene fuori, anche perché se è del primo lavoro orari, spero che piaccia. Per non morire? No, non sto morendo. Per non morire? Per non morire? Sono tornato anche a lavorare con l'albova dopo un po' di anni, insieme a un gruppo di scrittura piuttosto nutrito. Abbiamo preparato questa serie che sta andando sul set adesso, che è una serie d'avventura. Tra lo spionaggio, l'avventura, il giallo e il thriller c'è dentro tutto. Sono otto puntate, questo sarà sul canale 5 e che penso vedrà la luce l'anno prossimo. E poi ci sono un po' di progetti che voglio portare avanti sempre per la televisione. Vorrei tornare anche a fare un film al cinema, ho un po' di progetti ma non so come andranno a finire, ma soprattutto adesso mi sto dedicando alla scrittura del seguito di Uccidi il padre. Lo finirò in tempo. Grazie.